San Vito Mosinano numero 4, 5 Giuseppe, numero 5, 5 Cristiano, numero 7 Piano Alessandro, numero 8 Esposito Alessandro, numero 9 Camara Alessandro numero 10, Guaragino Alessandro, numero 8 Esposito Alessandro, numero 8 Esposito Alessandro allena potere in serba versus io in Napoli, numero 1, suo disco Antonio numero 3, Montanella Vincenzo numero 6, Falco Russo Simone numero 7, Pozio Stanislao numero 8, Tartaglione Andrea numero 9, la Monica Giuseppe numero 10, Di Giulio Puglielmo numero 11, Nero Daniele allenatore allenatore profonde carica dirige la Laura del Signore piñe 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.